Alemania ancora chiusa a 27 nel caos e treni saltati questo il titolo d'apertura del Corriere delle Alpi di oggi lunedì 15 luglio domenica da incubo per il blocco della strada statale 51 di Alemania la frana in Fadalto ha mandato in tilt la viabilità questa l'apertura del giornale che spiega la statale di Alemania ancora chiusa per la frana in Fadalto doppie code in A27 colonne di auto ai caselli lunghe fino a 4 chilometri ma anche passeggeri lasciati a terra in attesa per ora di inesistenti bus sostitutivi dei treni saltati sempre a causa della frana è successo di tutto e di più nella prima domenica con l'Alemagna chiusa sul Fadalto un caos che rischia di durare tutta l'estate e a questo tema il Corriere delle Alpi dedica le prime pagine della sezione che è riservata alla provincia di Bellugno e c'è anche una immagine significativa di coda al casello autostradale vista la chiusura della statale di Alemania autostrada a passo duomo verso Belluno il Cadore al casello per l'alpago in mattinata auto incolonnate sotto il sole e poi un approfondimento sulle sulla statale e sulla zona attraversata per giungere da Vittorio Veneto in provincia di Belluno è una valle tutta cedimenti di qui la fragilità e le frane che sono cadute a seguito dei temporali della settimana scorsa e i monitor sono da reinstallare i sistemi di sorveglianza che appunto erano stati predisposti per tener controllato il territorio ma non soltanto code di auto come detto anche linee sospese dei treni 5 ore di attesa del bus sostitutivo ma non è arrivato dalle 19 fino a mezzanotte in strada chiamati i carabinieri un centinaio di viaggiatori rimasti a piedi a Vittorio Veneto dovevano andare a ponte nelle Alpi niente mezzi sostitutivi una difficoltà certamente importante ferrovie di servizio totale questa in sintesi la protesta dei pendolari treni Belluno torna alla carica carenza di pulmono e assenza di informazione per gli utenti questa la sottolineatura che viene fatta presente a seguito dei disservizi registrati nella giornata di ieri e sempre in tema di viabilità un altro tema un'altra difficoltà registrata ieri in provincia quella relativa al passaggio di tanti motociclisti in particolare per partecipare a una manifestazione all'alba al passo giao motociclisti scatenati per le vie di zoldo servono subito gli autovelox elettronici il sindaco camillo de pellegrin sindaco di val di zoldo attacca il ministro salvini e chiede norme per l'omologazione degli strumenti di controllo della velocità pronto ad evolvere i soldi delle multe al fondo vittime della strada sottolinea da parte sua il presidente padrin sottolinea la necessità di modificare la legge per renderla un deterrente e c'è anche un'immagine della manifestazione alba sul giao scusate che ha visto la partecipazione di centinaia di motociclisti e poi la cronaca del primo festival degli aquiloni che si è tenuto a in alpago sulle rive del lago di santa croce una partenza con il botto soddisfatti gli organizzatori e anche il comune che ha collaborato alla realizzazione di questo evento percorsi facili in bicicletta 15 itinerari per tutti le iniziative del gruppo nemm domani con il corrido delle alpi ci verrà offerto un volume sulle ciclo pedonale più belle 70 anni degli alpini tra corteo e attestati feste ieri a campolongo di cadore con una raccomandazione quella di tramandare i valori degli alpini anche alle giovani generazioni ed eccoci a feltre dove si parla del palio del prossimo palio di feltre per il quartiere santo stefano colpo topalli dopo otto anni si punta a vincere chi è a rianto palli è un fantino di prestigio che quest'anno appunto correrà per il quartiere di santo stefano che con questa acquista per così dire spera naturalmente di poter essere protagonista vincente della manifestazione e sempre per quanto riguarda il palio al museo diocesano in mostra i drappi dipinti un patrimonio della città l'esposizione sarà inaugurata giovedì 25 e riunirà le opere d'arte costudite dai quartieri vincitori i vari drappi vinti di anno in anno e da feltre passiamo a pedavena la birra dolomiti sul mercato americano entro la fine dell'anno questo uno degli annunci durante la festa dell'orzo che si è tenuta nel fine settimana si tratta di un annuncio del presidente buttironi all'apertura della botte in migliaia hanno affollato la birreria durante il weekend e torniamo a feltre per dar conto di un'iniziativa che ha coinvolto giovani e giovanissimi guidati dalla università juav di venezia giochi e spazi per l'arte alla caserma zannetelli boscarez più accogliente si è trattato di una serie di incontri con cui alcuni docenti della università hanno stimolato giovani e giovanissimi a immaginare una nuova configurazione nuovi possibili servizi e accoglienze che possono essere messe in campo alla caserma zannetelli e al quartiere di boscarez passiamo poi alle pagine sportive sempre sul corriere delle alpi cominciando dal calcio e in particolare dall'allenatore della dolomiti bellunese la formazione della provincia che milita in serie di dolomiti stabile nelle zone alte questo è il programma di nicola zanini alla vigilia dell'avvio della preparazione per il prossimo campionato di serie di preparazione che inizierà la prossima settimana e poi la cronaca della partita che si è svolta ieri ad auronzo tra i locali e i giocatori della lazio scontato l'esito 23 a 0 per i giocatori della serie a della lazio ma è stata anche una bella festa che il correre delle alpi testimonia anche con numerose immagini e poi la cronaca del torneo a gordino che ieri ha vissuto i mini ottavi torneo a gordino di calcio mini ottavi che sono stati vinti dal taibon che ha prevalso per 4 a 0 sul cincenighe e dalla valle che ha battuto per 2 a 1 il falcade caviola e poi ancora dal gosaldo che è superato per 1 a 0 il fodom e dal canale d'agordo che è superato con lo stesso punteggio il rivamonte e quindi sempre per quanto riguarda il calcio le cronache di tanti altri appuntamenti di tanti altri tornei che si sono svolti ieri in provincia di belluno ma dal corriere delle alpi passiamo al gazzettino di belluno anche in questo caso in prima pagina titolo principale riservato a un tema di carattere che ha a che fare con la viabilità fermiamo l'invasione delle moto la manifestazione alba sul jau ha portato a centinaia di persone sul passo hanno lasciato immondizie e una latrina al cielo aperto sotto lì viene sottolineato dal giornale il sindaco di valdizoldo dopo le ultime sentenze non possiamo neppure eseguire controlli della velocità e quindi una sottolineatura del problema rappresentato dalle tante moto sulle strade della provincia in particolare nei fini settimana ma anche dalle conseguenze dell'arrivo di tanti turisti che non dimostrano almeno alcuni di loro la giusta attenzione per l'ambiente lasciando segni evidenti del loro passaggio ma andiamo all'interno del giornale nella seconda pagina venne viene approfondito questo tema moto a tutte velocità sindaci lasciati soli con armi spuntate e ancora un altro risvolto che abbiamo già visto anche sul correre delle alpi dei problemi viabilistici di ieri ferrovie bus fantasma per pendolari e turisti un centinaio di viaggiatori lasciati ad attendere per ore sabato a vittorio veneto la corriera che doveva andare che doveva sostituire il treno per portare le persone in provincia di belluno non è mai arrivate ed era impossibile parlare con trenitalia abbiamo chiamato i carabinieri tutto è agli atti pensiamo anche a sporgere denuncia hanno sottolineato alcuni viaggiatori che hanno patito questo disservizio perché è un disservizio dovuto alle frane che hanno chiuso il costretto a chiudere il fadalto chiusura che ha comportato come già evidenziato dal correre delle alpi code chilometriche fin dalla mattina ai caselli dell'autostrada a 27 e poi la cronaca di una manifestazione sportiva un torneo di calcio particolare mundialito ha vinto l'amicizia ad alzare la coppa della seconda edizione della manifestazione svoltasi a salce la squadra del marocco che ha battuto l'italia ma in giro c'era di più del risultato sportivo lo scambio di culture cibo e fiducia reciproca l'assessore mazzoccoli di belluno quest'anno oltre agli adulti abbiamo dato spazio anche ai più piccoli e poi a pedavena la festa dell'orzo da il via alla stagione assalto la parola scritta tra virgolette alla birreria apertura della botte con il classico mazzuolo grazie al mastro birraio nicola gabrielli e al sindaco castellazze nel parco della birreria sfilata dai carri tradizionali e numerose iniziative che hanno rallegrato l'intera giornata anche preso d'assalto anche il lago del corlo ad arsie parcheggi pieni e tanti turisti e sempre per quanto riguarda il feltrino prima festa degli anziani di sette ville un successo la prima festa del comune riunito ha preso il via anche la saga degli stios che attira buongustai da lontano ma dal feltrino passiamo alla valbelluna al confine tra i comuni di sedico e borgo valbelluna l'ex comune di trichiana ponte san felice 80 anni dopo commemorazione dell'agguato nazista nella notte tra il 14 e il 15 luglio del 44 furono uccisi 11 giovani del posto i terribili momenti sono stati ripercorsi dal presidente provinciale dell'isbrek diego cason a bribano corona dall'oro per ricordare anche i fratelli giovanni e dante salci limana il sindaco talo incontra il personale la sua esortazione lavoriamo insieme per i cittadini gelato solidale da zoppè a roma per raccogliere fondi l'idea dalla germania con stefano bortolotto per rettina e pollicino e poi eccoci ad auronzo di cadore il sindaco vecelli o galeno risponde all'ex prima cittadina tatiana paes becker che l'ho accusato di ritardi nei lavori pubblici quando siamo entrati in municipio era praticamente vuoto e abbiamo provveduto ad assumere il personale e questa necessità di sistemare il personale sottolinea il sindaco e all'origine dei ritardi che si sono accumulati e dopo dal dal cadore al comelico festeggiati a campo longo in comune di santo stefano i 70 anni degli alpini un paese vestito con oltre 300 bandiere per rendere omaggio al gruppo alpino dedicato a germano da zold la sfilata con la presenza delle autorità è stata accompagnata dalla fanfara alpina di conegliano alla messa ha cantato il coro per alba vino vip le migliori etichette italiane a rifugio faloria a cortina si conclude oggi la due giorni nel corso della quale sono stati presentati 180 prodotti e per la pagina sportiva senza storia la passeggiata della lazio e si tratta della cronaca della partita che si è svolta ieri tra la lazio che è in ritiro ad auronzo di cadore e la formazione locale che è stata superata per 23 a 0 ma nella prima pagina sportiva del gazzettino anche una notizia di hockey zoldo ghiaccio stage a cloud per ricominciare meneghetti sarà difficile ripetere l'impresa e poi spazio al alla palla ovale in trionfo scrive il gazzettino con i tornei che si sono svolti vicino al lago di santa croce sulla spiaggia sulla arena e ci sono anche numerosi foto che testimoniano questo evento e poi tante altre cronache concludiamo con quella relativa al motociclismo alex bassani zampata e decimo posto il motociclista feltrino riscatta due giorni così così in inghilterra alla fine entra nella top ten confermando ampi margini di crescita dopo la dodicesima posizione conquistata in gara 1 la sua kawasaki risponde bene ingaggiando appassionati duelli con i annone si chiude qui questa edizione della rassegna stampa a tutti voi il più cordiale a risentirci